Ecco, sempre con Roberto Revello, stiamo parlando della canapa e la domanda che mi sorge in testa è dal punto di vista del sapere, del scientifico, delle consulenze necessarie, come procede Green Italy? Green Italy procede con un rapporto anche con l'Università di Agraria e di Chimica Agraria di Torino. Con l'Università di Agraria di Torino, un anno e mezzo fa, c'è stata una ragazza che ha fatto una tesi sul discorso canapa, sulla canapa in canavese e per quanto riguarda la canapa l'assorbimento di CO2 dall'ambiente. Ed è venuto alle spalle il supporto dell'Università di Agraria, praticamente è venuto fuori che la canapa, ma, confronto tutte le altre piante, ha un assorbimento di CO2 da 3 a 5 o 6 volte superiore. Accidenti! Quest'anno invece, con il discorso canapa e con il discorso dei 12-13 ettari che abbiamo fatto mettere, abbiamo fatto un accordo con l'Università di Chimica Agraria per partire da un discorso di terreni puliti. Ciò significa che tutti i terreni in cui è stata piantata la canapa, seminata la canapa, vengono analizzati e vengono analizzati per vedere se non ci sono sostanze chimiche all'interno. E se mai ci fossero sostanze chimiche all'interno, vedere l'assorbimento della canapa come si comporta, se viene assorbe dei certi tipi di sostanze oppure le lascia nel terreno, ci sono dei miglioramenti, eccetera, eccetera. Tutti i prodotti che viene raccolto e che si arriva da terreni puliti, che è l'Università di Chimica Agraria, con le proprie analisi, verifica che sono terreni puliti, tutto quel prodotto che deriva da quella canapa lì, in etichetta ci sarà un logo che dice che è stata canapa da terreni puliti. Da terreni puliti, cioè non inquinati da pesticidi, eccetera. Ecco, allora, vediamo, quali sono le sfide attuali, quelle sul tavolo in questo momento, di questa operazione che è un'avventura, è un'impresa? Sì, le sfide attuali non è tanto sul discorso dell'alimentazione, perché l'alimentazione ormai di come si tratta il seme si conosce, bisogna solo esclusivamente attrezzarsi, quindi a grandi linee si sa. La sfida è arrivare sullo sfruttamento del bacchetta. Quindi è il lato fibra. Il lato fibra, sì, perché dalla fibra si possono ottenere tantissimi prodotti. Ecco, il che mi sembra di capire, ecco, tra questa varietà di prodotti, però, diciamo, le scelte stanno andando verso il settore dell'edilizia. L'edilizia, oppure non altro fare del pellet per scaldarsi, non altro fare delle lettiere per animali. C'è uno sfruttamento della canapa a molteplici utilizzi. La canapa è il classico maiale vegetale che si sfrutta tutto, non si butta via niente. È una pianta molto interessante. Che dire? Che dire, allora? Vediamo le prospettive che vi fate, insomma. Le prospettive che ci facciamo è un discorso di crescere in un futuro. Certo che essere impegnati su più fronti, diciamo, che toglie tante energie. Perché si parla dall'alimentare al discorso di edilizia, eccetera, eccetera. E quindi le sfide sono di portare, sfruttare una pianta che assorbe CO2, sicuramente tratta bene il terreno, fa bene all'ambiente e riuscire a sfruttarla per togliere dal mercato tanti prodotti. Che diciamo non hanno queste caratteristiche, che non sono ecocompetenti. Noi per questo fattore, diciamo che io un mese e mezzo fa, due mesi fa, sono andato a prendere come Green Italy un premio a Capannori. Siamo stati premiati da Zero Waste, rifiuti zero, per il discorso canapa. Perché la canapa è un materiale che non inquina. Su dieci aziende che hanno premiato, quattro erano nell'ambito canapa. È interessante. Bene, allora, due parole ancora sull'azienda Green Italy. Quanti siete? Che cosa l'abbiamo visto? Adesso siamo in pochi. Diciamo che nel discorso dell'alimentazione facciamo fare tutto tramite conto lavorazione esterno. Prendiamo delle aziende che fanno prodotti di qualità, gli andiamo a chiedere un discorso canapa, di inserire la canapa e vedere con questi prodotti di qualità come si inserisce la canapa e che tipo di prodotto dà. Per esempio, come il torcetto di Aglie, gli abbiamo chiesto di inserire la canapa all'interno, quindi è stato fatto un torcetto d'aglie con il 20% di farina di canapa. Buongiorno. Ciao Giuliano. Buonasera. Mamma, interrotto la tua...